Quanti mutui gestite ogni mese? Almeno 60. Quattro anni fa quanti erano? Dieci e al massimo quindici. Se io facevo il barista, adesso ho la barca. Tu hai la barca. E per sapere quanti sono mutui a tasso variabile? La maggior parte. Ah sì? Sì, direi il 90%. I bonus su quelli sono davvero saliti alle stelle qualche anno fa. Il tasso variabile è una manna. E non vengono mai respinti i mutui che richiedete? Scherzi. Se vengono respinti vuol dire che sono un incapace. Anche se non hanno soldi. Beh, la mia società offre dei prestiti dei TMRTA. Meno reddito degli altri, capito? Io lascio sempre la parte del reddito in bianco. La mia società non interessa. Queste persone vogliono soltanto avere una casa. Seguono la corrente. Insomma, non fanno delle verifiche.